Ecco qui, grazie a Dio, le persone stanno mangiando, sono felici, benvenuti, benvenuti al nostro locale, grazie, sono persone che mangiano, hanno già mangiato, sono contenti, felici, noi fai una bistecca, fate una bistecca subito, una bistecca ai ferri, benvenuti, benvenuti, buon appetito, buon appetito, grazie a Dio, sì, grazie a Dio. Speriamo che le persone saranno felici qua, ci sono persone che preparano per tutti, hanno finito, hanno fatto manbassa qua, manbassa, hanno fatto manbassa, c'è stato qui, è rimasto poco, è rimasto poco, grazie a Dio, qui ci sono i biscotti, i biscotti, ci sono delle cose, era buono il mangiarino? Buonissimo, grazie, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, mangia bene, parla bene, sì, siamo felici delle persone che vanno e che vengono e adesso facciamo la lettura, la lettura della parola di Dio, vediamo quello che il Signore ha preparato per noi, piano piano facciamo questa lettura della parola e invitiamo le persone ad accettare il Signore Gesù come personale salvatore, quindi queste sono le varie persone che vanno e che vengono. Duzman, come va Duzman, tutto bene? Grazie a Dio, saluti anche Amer, tua moglie. Bene, adesso vi darò la lista lavoro e grazie a Dio.